4 luglio 1790, nasce a Crick Howe nel Galles, George Everest. Ingegnere militare, geografo e cartografo, lavora dal 1818 al 1843 al colossale progetto di rilevamento trigonometrico del subcontinente indiano per disegnare una carta dettagliata della regione e misurare la lunghezza dell'arco di meridiano compreso fra l'estrema punta meridionale dell'India e l'Himalaya. Nel 1865 la montagna più alta al mondo prende ufficialmente il suo nome. Muore nel 1866.